Vuoi correre, gareggiare e divertirti? Partecipa al sedicesimo trofeo Topolino Palla a Mano! Le emozioni dello sport si uniscono al divertimento e al gioco! Vivi il grande evento sportivo per tutta la famiglia! E inoltre divertiamoci a stare insieme! Troverai spazi di gioco e intrattenimento per muoversi e imparare a seguire una corretta ed equilibrata alimentazione! Sedicesimo trofeo Topolino Palla a Mano! Dal 6 al 9 luglio a Misano Adriatico! Grazie a tutti!